Da anni l'Abruzzo risulta il primo posto nella classifica di distribuzione dei giochi in Italia. Nel 2019 gli abruzzesi hanno giocato quasi 2 miliardi di euro. Teramo in particolare detiene la maglia nera tra le quattro province. Il gioco d'azzardo, che ormai riguarda anche le generazioni più giovani e senza distinzione di sesso, non è però la sola nuova dipendenza. Shopping, lavoro, sport, internet e videogiochi spesso diventano comportamenti compulsivi che hanno bisogno di supporto psicologico, individuale e familiare. È quello che propone l'associazione Resaglio di Teramo, che mette a disposizione un proprio sportello d'ascolto e organizza seminari informativi nelle scuole. Un progetto sociale dallo slogan La tua vita non è in gioco, finanziato dalla fondazione Tercas. L'Abruzzo comunque detiene la maglia nera per il gioco d'azzardo ormai da anni. E' allarmante il dato riguardante il 2019, perché si sono giocati due miliardi di euro, che insomma è una cifra consistente. Sono soprattutto i ragazzi a questo punto ad essere coinvolti? Allora, è la popolazione tutta. Il gioco d'azzardo purtroppo è una problematica che riguarda tutte le fasce d'età. Noi ci siamo attivati perché negli ultimi anni ci siamo accorti che anche la popolazione giovanile iniziava a presentare delle problematiche relative al gioco d'azzardo. Tra i 14 e i 19 anni è una fascia nella quale si gioca molto. Certo, si scelgono dei giochi differenti, si scelgono giochi online oppure sale scommesse, però comunque si gioca d'azzardo, si spendono dei soldi, si spende del denaro. Come aiuterete queste persone? Nelle scuole ci occuperemmo di fare dei seminari informativi rivolti agli studenti ed anche agli insegnanti, insomma ai genitori. Questo ha il fine un po' di rendere doti gli studenti rispetto alla problematica, così da poter riconoscere anche in un eventuale compagno il problema e d'aiutarlo. Per la Fondazione Tercas sostenere questo progetto vuol dire ascoltare il territorio? Assolutamente sì, vuol dire mettere in atto quelle che sono le modalità più nuove di welfare territoriale. Un welfare che non impone ricette, che non impone modalità di risposta all'esigenza del territorio, ma che è attento alla voce del territorio, è attento a chi sul territorio opera e a chi ogni giorno condivide il percorso di vita complesso e oneroso di chi vive queste situazioni di forte disagio. Grazie. 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 Grazie.